Noi abbiamo giocato meglio che loro, abbiamo pareggiato, poi abbiamo avuto 3-4 occasioni di contropiede che se la giochiamo meglio possiamo anche vincere con questo Juventus perché io mi aspettavo di più dalla parte della Juve. Noi abbiamo giocato meglio che loro, secondo me anche abbiamo avuto più di occasioni di gol che loro, ma quello che conta è i punti. Loro hanno preso 3-0, noi siamo arrivati, ho fatto solo due allenamenti con la squadra, poi anche fisicamente bisogna giocare di più. No, io non ho chiesto il cambio, però ho scelto di allenatore che rispetto, poi ci sono le gare importanti che arrivano, poi bisogna essere pronti per tutti. Secondo me manca un po' di fortuna, manca un po' di... siccome facciamo ieri uno a uno e prendiamo un punto nella casa di Juve sarà meglio, però ora dobbiamo vincere magari già con Napoli domenica a casa. È interessante sempre di giocare con il Milan, perché è una grande squadra e poi dopo abbiamo Napoli, due partite difficili, vediamo come è quella che è il più importante. Ho bisogno di giocare, di fare vedere, perché secondo me c'è la qualità per giocare in Serie A, per dimostrare, per fare il gol, per aiutare la squadra. A Bari ci credono di più in me che a Genova. Ho fatto gol nella Roma, con Roma, ho fatto gol con la Juve, sono una squadra importante, sono felice per questa, però sai non mi dà tanto felice perché abbiamo perso questa partita. Grazie.